No, c'è una cosa che non ho capito. Allora, Maria, intrattieni il nostro ospite. Vieni, vieni. Si accomodi. Com'è la salsa quest'anno? Buono. Eh? È buono. È dolce. È dolce. Ma lo sa già? Mmm, buono. Perché si va cercate? Io bene, amore. Mettemelo piccolo luce, va. La vuoi un'altra birra? Cilu. Qual è il fatto? La vuoi o no? Diamo un'altra birra. Oh. Allora, almeno. Ah, sì. Non mi vuoi dire, perché tutta questa scena? Ma che qui si è presata la macchina? Cilu, guardi, io sto solo cercando di aiutare il mio cognato, eh. Cioè, a me è della macchina. Non mi raffredda un cazzo. No, no. Non è la macchina. Ha capito? Non è la macchina. Uno, due, tre e quattro, cinque, sei, sette e otto. Uno, due, tre e quattro, cinque, sei, sette e otto. Che ne dici? Non so, va bene. Più questo passo. Uno, due, tre e quattro. Oppure uno, due, tre e quattro. No, no, no. Che gira? Però uno, due, ho capito. Dai, non ballare con me, dai. No, non so ballare. Anna Mari, mi piace. Torno, è una continuazione questo fatto. Trecent e sette e sette e cinque giorni all'anno. E mo' io la lambada. Mo' io il limbo. È vero o no? E poi mi hanno detto che... Che? Che Marlon Brando è andata a prelevare da gas. Che ne hanno fatto? Ma no, niente. Non è così, mi hanno detto. Con la scusa dei soldi, se lo sono trattenuto. Questa è un avvertimento a te. Oh, oh, che hai combinato con l'amico tuo? Forse ho sbagliato qualcosa. 5, 6, 7, 8 E 1, 2, 3 e 4 5, 6, 7, 8 1, 2, 3 e 4 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Disgraziata, abbassa la capa! Dov'è Tony? Ed è là!